Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dove inizieremo a vedere l'applicazione YouTube Studio che gira sui nostri dispositivi mobile. Vedete che io sto postando direttamente su YouTube il video realizzato con LumaFusion ma non è questo l'argomento, l'argomento è cosa finalizza il video per poter essere poi ben visibile diciamo agli occhi di YouTube. Innanzitutto vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere le notifiche ovviamente sugli altri video che verranno postati. Sto realizzando insieme allo Studio Skate di Savona un corso completo di 15 ore proprio dedicato a YouTube come arrivare su questa piattaforma dalla nascita del video fino a quando dobbiamo postarlo. Quindi vi invito a visitare il sito, probabilmente vi metterò in sovrimpressione e in riscrizione di Studio Skate tanto per farvi vedere del programma. Quindi ora andiamo a vedere cosa possiamo fare con l'applicazione residente nei nostri dispositivi che si differenzia un po' da quella che utilizziamo di solito sul browser dei nostri computer o dei nostri dispositivi stessi. Andiamo a vedere cosa possiamo fare. Dopo aver installato YouTube Studio sul vostro dispositivo mobile e date le credenziali giuste possiamo a questo punto andare a aprire YouTube Studio e dare una prima occhiatina all'applicazione. L'applicazione si presenta così, ovviamente possiamo personalizzare un po' il canale, possiamo fare delle cose ma oggi ci occuperemo come ovviamente andare a diciamo finalizzare, chiamiamolo finalizzare il nostro video. Innanzitutto vi voglio informare qua sotto abbiamo delle iconette che sono, questa qui ovviamente è la pagina che stiamo vedendo a seguire c'è i nostri video che sono stati caricati e abbiamo qua anche una sorta di diciamo come dire categorie per poter vedere, selezionare i video caricati, quelli non caricati, quelli non elenco, quelli pubblicati, quelli non pubblicati eccetera 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 e vediamo qua il nostro video che è stato caricato ovviamente privo di immagine di copertina. Andando avanti abbiamo tutte le statistiche del caso ovviamente, abbiamo anche i commenti molto importanti potete rispondere di qua e anche qui avete ovviamente una sorta di filtro, giustamente chiamato filtro per poter ordinare i vostri commenti in base a dei criteri anche qui quelli che non avete letto, quelli che avete letto, quelli che contengono domande eccetera 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 come ultimo tastino abbiamo invece le playlist, ok? Tutte le nostre playlist che se ci clicco dentro una mia playlist vado su tutti i video che ho caricato ovviamente in quella playlist ma adesso sprechiamo due parole per le miniature. Allora, la prima cosa da fare quando si posta un video su YouTube è diciamo agganciare, agganciare, caricare una miniatura potete ovviamente agganciare dal video stesso però non è una cosa che si usa a fare perché la miniatura serve come SEO, quindi come ricerca quindi diciamo che la miniatura ha un senso di esistere. Purtroppo, purtroppo la miniatura su iPad non si può rinominare cioè viene chiamata image 05956 se la generate con un programma. Purtroppo YouTube Studio non permette l'accesso ai cloud quindi non potete scaricare, salvare la vostra miniatura su i cloud con un nome e ricaricarla quindi non potete farlo oppure potete farlo ma se l'andate a scaricare nuovamente nell'iPad la miniatura vera di nuovo rinominata image batte la pesca perché è così ragazzi è così ho fatto delle prove quindi vi dico sempre se dico il contrario è ditemelo pure perché ho provato fino a l'ultimo aggiornamento da iOS a salvare la miniatura su i cloud con il nome poi prendere e riportarla nel rollino fotografico riportarla di nuovo all'interno di i cloud e il nome era ovviamente scritto come image è quello che praticamente dà il nome l'iPad ai nostri immagini quindi quasi inutile nella miniatura se non per la parte visiva perché ovviamente la miniatura è importante. Ora andiamo a vedere come mette la miniatura appena creata nel nostro video quindi cosa facciamo andiamo nei video appena caricati vado a cliccare sul mio video vedete che appare ovviamente quello che ho caricato e sotto abbiamo una serie di informazioni che adesso non ci sono perché il video è frasco frasco. Abbiamo qui tre tastini il primo ovviamente la modifica il secondo è la condivisione ok e il terzo invece catapulta sul vostro canale per far vedere ovviamente per farvi vedere il video in questione quindi io vado sulla matitina clicco sulla miniatura vedete che qua mi viene posto ovviamente la scelta di poter scegliere un'altra miniatura ovviamente del video non è così completo come succede per ovviamente youtube studio sul computer o sul browser se andate in modalità desktop sul computer sul dispositivo mobile e quindi la scelta questa però potete veramente caricare un'immagine di copertina e andiamo a vedere come basta andare qui ok e selezionare la vostra immagine copertina ovviamente dal vostro rullino fotografico visto che non possiamo importarla come vedete io vedete vado qua non c'è l'importazione almeno fino a ieri non c'era non c'è l'importazione grazie io non la vedo ci sono gli album e tutto ma non c'è l'importazione da da possiamo andare negli album ma gli album sono sempre vediamo un po se c'è scritto qua sotto file niente vedete che non posso praticamente importare le miniature da icloud non capisco perché non si possa almeno io non lo vedo quindi correggetemi se sbaglio comunque la miniatura l'abbiamo messa una volta che l'abbiamo messa non c'è un altro che dare la conferma e la nostra miniatura è stata inserita ora per completare il nostro video diciamo grandi linee cosa dobbiamo fare se vogliamo possiamo cambiare il titolo ovviamente che vediamo qui ok possiamo cambiare il titolo e ovviamente mettere la descrizione la descrizione io vi consiglio sempre di fare una sorta di descrizione già pronta all'uso e poi un copia e colla e cambiare quello che dovete cambiare cioè nella descrizione scrivere tutto quello che vi dovete portare dietro sempre tipo link grazie mi prende offritemi un caffè eccetera 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 e poi ovviamente fare il copia e incolla nella descrizione e andiamo a fare proprio questi ho già copiato la mia descrizione adesso la vado a incollare nel spazio giusto diciamo della descrizione di youtube studio ok clicchiamo su descrizione vedete che non c'è nulla vado col tasto destro e faccio incolla ok e ho scritto l'ho fatto la mia descrizione mente devo cambiare la descrizione perché non è non è il diciamo il il video giusto ok devo cambiare anche i tag sopra che io li metto chi li sconsiglia chi non li sconsiglia quindi andiamo a cambiare la descrizione e andiamo a scrivere ovviamente quello che contiene il nostro video ok perfetto ok come vedete io compilato la mia descrizione più o meno lunga e poi nel corso ovviamente se avrete voglia di farlo vedremo ovviamente altre cose più interessanti legate alla descrizione a questo punto non faccio altro che tornare indietro ok con la dicitura che troviamo in alto a sinistra non dimenticate ovviamente di salvare più salvo subito perché come dire si fosse qualche intuspetto ovviamente salviamo subito la cosa andando avanti ovviamente ritornando di nuovo nella mattina troviamo altre cose molto interessanti ovviamente adesso faccio una bella cosa ingrandisco perché vediamo privato ok la moti della monetizzazione la possibilità di attivarla la diciamo il video destinato a bambini o no e aggiungere a una playlist e sotto i tag categoria eccetera 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 quindi cosa facciamo innanzitutto innanzitutto andiamo ad attivare la monetizzazione si fa così si va qua si va su monetizzazione si fa vuoi attivarla si ok si scelgono quello che volete elevare dal dalla visualizzazione dell'attivazione della della vostra monetizzazione se no lasciate tutto così e tornate sempre indietro col tasto in alto a sinistra andiamo avanti questo per i bambini non lo tocchiamo perché vi ricordo che se mettete destinato ai bambini questo video verrà visto su youtube destinato ai bambini quindi il nostro video verrà cancellato dal vostro non cancellato ma non visto sul vostro canale dalle persone interessate poi procediamo ad aggiungere alla playlist di luma fusion 3.0 la nostra il nostro video ok abbiamo aggiunto vedete la nostra playlist basta uscire e la nostra playlist è stata aggiunta sotto invece abbiamo una cosa molto interessante i tag c'è chi dice che sono importanti c'è chi dice che non sono importanti quindi sopra nella prima vedete aggiungete i tag nella seconda in aggiungete il cambiate la vostra dicitura che ora è intrattenimento ma dovrà cambiare in tecnologia perché luma fusion si è portati non si è portato dietro quello che io ho messo scienze e tecnologia ok ingrandito per così vediamo un po tutto ovviamente potete consentire commenti e fare altre cose ordinare per più popolare ma non questo non ce ne curiamo aggiungiamo invece i tag adesso spengo il mouse perché sennò prende il possesso vedete del monitor per farvi vedere ovviamente più grande ok aggiungi tale clicco qua dentro e cosa aggiungo qua dentro aggiungerò luma fusion ok aspetta che la scrive che sono un cane luma fusion virgola sempre virgola mobile video mobile video editing virgola luma fusion tutorial italiano virgola eccetera 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 ok quindi fate questo lavoro questo lavoro mentre quando avete finito questo lavoro dovete tornare indietro ovviamente sempre con il pulsante in alto ok in alto qua poi come l'ultima cosa passiamo la programmazione o la pubblicazione ecco in questo caso il video non lo pubblico ancora però vi faccio vedere ovviamente qua nella pubblicazione cosa potete fare ovviamente avete la possibilità di mettere pubblico quindi imposta come diciamo viene subito visualizzato ok quindi è una viene subito come faccio pubblica lui lo pubblica subito ovviamente posso impostare anche come premier ma non non ha senso se non lo programmo ok pubblico poi ovviamente posso metterlo non in elenco scusate questo questo vai e vieni e in ultimo è privato e invece posso cliccare su programmazione che è stata aggiunta da poco su youtube quindi su youtube studio quindi posso anche adesso programmare il mio video qua quindi vedete che qui c'è tutto quello che mi serve per programmare il mio video mentre la data di inizio della programmazione e sotto c'è tanto di anche imposta come premier ovviamente non posso almeno vediamo un cliccandoci sopra ecco vedete la già la differenza non la vedete già la differenza ma ve la dico io a voce la differenza fra youtube studio l'applicazione youtube invece quello che utilizzate dal browser sia del dispositivo mobile se andate modalità di stop sia sul computer mentre altre funzioni ovviamente in più quindi detto questo a questo punto torniamo qui io non la programmo ovviamente la lascio così per adesso lascio non vorrei mai ha messa visibilità ecco programmata ovviamente la posso anche programmare dai la posso anche programmare la programma domani questo questo video non uscirà ovviamente domani ma questa uscirà invece giovedì ok vedete come si programma ok poi andate avanti e mettete l'orario ok l'orario queste sono le ore poi vi spostate col mouse col dito sui minuti e mettete i minuti visto che l'orario non è italiano ok dovete mettere pm o am cioè un poverdiano o meridiano cioè al mattino sono am invece pm e pomeriggio però come date ok vedrete che qua cambia ok vedete 17 febbraio ore 21 e 30 quindi è praticamente giusta ok io metto come premier va bene vado indietro ok poi dovrò fare ancora delle modifiche ovviamente come ho detto le farò da diciamo dal desktop perché così non si può fare e come ultima cosa andiamo su salva a questo punto il nostro video è stato salvato se adesso io andassi col mio finito di salvare vado sul youtube vedrete che appare come premier domani però ovviamente mancano un po di cose ovviamente perché poi abbiamo tante cose da dire nel corso speriamo che di poterlo fare che tante persone ovviamente vorranno aderire vado sul vedete su si sono ok qua inquadrato vado qui sul quadratino e vado praticamente su youtube sul mio canale vedete che appare la mia premier che è stata praticamente ovviamente impostata a domani quindi abbiamo visto che con youtube studio possiamo fare già tante cose per finalizzare l'ho chiamato finalizzare nel senso che per poter come dire gli ultimi ritocchi no al nostro video certo c'è sempre una differenza purtroppo tra il browser quello che si usa diciamo di solito che l'applicazione già tu baddin non si può utilizzare sul neanche su la modalità desktop sui dispositivi mobile quindi bisogna dare sempre sul computer se volete utilizzare quel servizio che ovviamente vedremo nel corso del corso che faremo bene ragazzi vi ringrazio per aver seguito questo video come avevo già detto in preparazione questo corso dedicato proprio a youtube come sbarcare come sbarcare come da una nave e approdare su youtube che in questo momento è importantissimo per tutte le aziende privati e ovviamente anche appassionati ci tengo a dire che questo corso verrà fatto in collaborazione con lo studio aschei di savona in descrizione ci saranno tutti i link al programma che varierà poi ci saranno tutte queste le informazioni come iscriversi e ovviamente le date io vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ovviamente volete seguire gennaro e attivare la se volete avere le notifiche sui video che verranno postati vi ringrazio per ora per avermi seguito e vi mando un caloroso abbraccio a tutti voi ciao ciao Musica Grazie a tutti.